Cavalluccio marino Ho letto che la femmina del cavalluccio marino, chiamata dalla scienza Ippocampus, depone le uova in una speciale sacca incubatrice nel ventre del maschio, situata vicino all'apertura anale. Alla schiusa il maschio espelle i piccoli, molto numerosi, con delle contrazioni simili al parto femminile, che in questo caso è chiamato gravidanza maschile. Commento Ma allora la gravidanza maschile non è sconosciuta alla legge d'evoluzione?